La forza di questo film, di questo tipo di commedia è che un passo avanti lo stiamo facendo tutti, nel senso che stiamo diventando un pochettino più politicamente scorretti, viva Dio. Se no la nostra commedia, e chi vi parla ne ha fatta parecchia, è sempre rimasta entro certi canoni, rimane entro certi canoni rasserenanti, invece mi piace il fatto, e questo bisogna riconoscere, lo prendiamo sempre dai francesi, dagli inglesi, comunque dai francesi, cioè il fatto di fare quel passo in più che ci permette, come in questo film, di essere qualche volta cindici, qualche volta crudeli, solo che la commedia si alimenta di questo, se non ci fosse questo, e il mio personaggio lo è in una maniera totale, perché si presenta, chiede e si trova a suo malgrado coinvolto a livello personale, visto che la sua meravigliosa figlia è la seconda volta che fa mia figlia, quindi oramai è vero, è pure in una famiglia di fatto, poi mi coinvolge con tutta quanta la storia, diventa il meccanismo della commedia degli equivoci, però viva questo cinema che comincia ad essere finalmente scorretto, comicamente scorretto.